Presidente, torna anche quest'anno il premio La Fortuna d'Oro, c'è ancora tempo per inviare le candidature? Sì, anche quest'anno si è riunita la Commissione per riproporre La Fortuna d'Oro per le proposte di candidatura relativamente agli anni 2022-2023. Quindi le domande si possono presentare entro il 25 febbraio, la modulistica viene trovata nel sito del Comune e l'evento si terrà il 21 marzo alle ore 17.30 presso il Teatro della Sala Verdi. Quindi mi raccomando, massima divulgazione e fate molte proposte di candidatura. Quali sono invece gli ambiti di riferimento? Il premio si propone di dare un riconoscimento alle persone che si sono distinte in ambito spirituale, sociale, scientifico, culturale e che hanno dato lustro alla città di Fano, al di fuori della cerchia cittadina e quindi nel Stato e anche nel mondo a livello internazionale. Donatella, infatti ci sono anche tante persone che lavorano spesso dietro le quinte. Infatti, quello che dicevo prima, ci sono persone veramente che lavorano a testa bassa senza mettere in mostra quello che fanno, quello che si fa. E siccome io comunque sono sempre per chi vale, chi lavora, chi fa senza esporsi, io direi che dobbiamo fare per questo evento una campagna pubblicitaria per dar lustro, per dar valore alla meritocrazia e quindi che appunto si possano presentare delle candidature importanti, delle candidature che meritino veramente per dar lustro alla città di Fano. E poi le varie candidature verranno esaminate e valutate da una commissione? Sì, generalmente si dice che Nemo profeta in patria. Questa volta non è così perché da tempo l'amministrazione comunale ha voluto riconoscere i meriti dei cittadini che si sono distinti in vari campi appunto che evidenziano anche che Fano è una città molto molto attiva, molto prolifica anche a livello nazionale. Quindi si fa conoscere anche per l'opera dei propri abitanti e quindi questa volta ci saranno molti profeti, io credo, in patria grazie alle segnalazioni che arriveranno dai cittadini.